E' stata una notte di emergenze, quella tra martedì e mercoledì, con gli incendiari che hanno colpito due volte nell'arco di pochi minuti. Intorno alle tre le fiamme si sono alzate in via Monza, una vettura, una Fiat Punto è stata data alle fiamme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, pare si tratti di un incendio doloso. L'auto appartiene ad un uomo che vive nella zona, nel quartiere Sant'Ippolito. Dopo circa 20 minuti l'allarme si è spostato in centro storico. Qualcuno infatti ha cercato di dare alle fiamme l'ingresso di una pasticceria che funge anche da bar in Corso Vittorio Emanuele. L'attività colpita è il bar Monte Bianco. All'interno però pare ci fossero già i titolari impegnati in attività. Sono stati loro a bloccare sul nascere le fiamme e a contattare i carabinieri che hanno avviato indagini per verificare ogni aspetto di quest'azione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Ci sono stati soltanto danni minimi proprio perché le fiamme sono state bloccate sul nascere dai proprietari dell'attività. Sicuramente un'azione anomala, messa a segno nonostante la possibilità che all'interno dell'attività potessero esserci proprio i titolari.